I passi li hai seguiti, li hai rincorsi, li hai aspettati, fino esaurimento del tuo tempo, hai cercato tra la folla dei consigli, dei pareri, ma ti dicevano che non è il momento, e che se vuoi riuscire in quello che vuoi fare, i social tu devi conquistare. Ma adesso una corrente ti porta in dissonanza con quello che è dentro, rendendoti diverso, e se la forza manca, ricordati di leggere queste parole scritte con il cuore e con la mente. No, non puoi trollare, sì, tu devi aspettare, che se ti arrendi adesso il cambiamento non potrà mai arrivare. Solo le parole riescono a svegliare quell'indipendenza che ti rende poi così speciale, no, non sprecarle in modo virtuale. Ricordati chi sei, anche quando non saprai, la strada per tornare verso casa, rimani a cuore aperto finché il cuore avrai. Ma adesso una corrente ti porta in dissonanza con quello che è dentro, rendendoti diverso, e se la forza manca, ricordati di leggere queste parole scritte con il cuore e con la mente. No, non puoi trollare. Sì, tu devi aspettare. No, non puoi trollare. Sì, tu devi aspettare. Che se ti arrendi adesso il cambiamento non potrà mai arrivare. No, non puoi trollare. 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 Si tu devi aspettare. Si tu devi aspettare. Che se ti arrendi adesso il cambiamento non potrà mai arrivare